Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il Tribunale di Pesaro ha condannato ad una multa di 1000 euro e al pagamento delle spese processuali, oltre a 7500 euro di risarcimento al Comune di Pesaro, che si era costituito parte civile, il 51enne pesarese accusato di diffamazione per una serie di frasi su Facebook contro il sindaco Matteo Ricci. L'avvocato Andrea Bianchi, legale della difesa, dopo la lettura della sentenza, ha riferito che l'orientamento è quello di un ricorso in appello. I fatti risalgono ad aprile 2020, il periodo più duro della pandemia. Nell'udienza dello scorso 9 gennaio, il primo cittadino aveva riferito in Tribunale che in una prima fase aveva cercato di bloccare e cancellare i messaggi degli haters sui social. Poi, dopo aver ricevuto minacce di morte tramite una lettera nella buca delle lettere di casa, la decisione era stata quella di presentare denuncia davanti ad un crescente clima di odio. Ricci si era detto disponibile a ritirare la querela ed arrivare ad un accordo con l'imputato qualora ci fosse un risarcimento simbolico da devolvere a fini sociali per il comune, con l'obiettivo di combattere l'odio. La difesa non aveva accettato l'accordo e nell'occasione aveva chiesto la soluzione per il fatto che il profilo utilizzato potrebbe non essere associato all'imputato, elemento ribadito dall'avvocato Bianchi questa mattina dopo la sentenza, oltre ad un difetto di procedibilità. Il pubblico ministero aveva chiesto 4.000 euro di condanna, mentre la richiesta del comune, come parte civile, era stata di 30.000 euro di risarcimento e 15.000 euro di provvisionale. Il giudice ha deciso di fissare a 7.500 euro la cifra del risarcimento, oltre a 1.900 euro per le spese di costituzione della parte civile. Il pubblico ministero aveva chiesto 4.000 euro per le spese di costituzione della parte civile.